In nome del Padre, del Signore e del Spirito Santo, così sia, saluto di Gesù Cristo, cari confratelli, cari suori, cari fedeli, in questa notte di Natale il Signore si abbrevia, in un certo senso, da immenso che è, si rende piccolo, presente nel piccolo corpo di un bambino, è l'esempio di umiltà. E di fatto, come leggiamo nell'inizio degli Atti degli Apostoli, il Signore prima ha fatto e poi ha insegnato. Prima ha vissuto l'umiltà e poi l'ha insegnato, come la via che portava in cielo, affinché noi facessimo lo stesso che lui. Allora, contemplando questo Dio bambino, potremmo ancora proseguire, a insuperbire, a coltivare l'orgoglio? Questa notte di Natale è anche la rivelazione della misericordia di Dio, non solamente della sua umiltà, ma della sua misericordia. La vera misericordia, la vera misericordia, non la misericordia di la Chiesa in uscita, che si è chiuse nelle sue sacristie. La vera misericordia di Dio, che viene verso di noi, nella verità, per toglierci dal peccato e ridarci la vera vita, quella della grazia. Che cosa dobbiamo chiedere a Dio, come Papa Francesco un po' di tempo fa, che chiedeva la grazia della prudenza e dell'obbedienza alle disposizioni perché la pandemia non torni più? O dobbiamo chiedere cos'altro? Che cosa aspettiamo dal Salvatore? Un nuovo paradiso terrestre senza pandemia o un paradiso celeste? Di che cosa abbiamo bisogno? Della salute, che intanto un giorno finirà, o della salvezza, che è per la vita eterna? E la misericordia che viene a proporci questo bambino Dio è quella della salvezza. Adamo non deve più temere un bambino. Un giorno ha ascoltato un servitore infedele e ha voluto rubare la corona, facendosi Dio stesso. Allora, quando ha sentito la voce di Dio nel paradiso terrestre, ha avuto porra e si è nascosto. Adesso questo bambino viene a rivelarsi. E' un Dio che viene. Adamo deve sfuggire? No, Adamo non deve più sfuggire. Perché non deve più sfuggire? Perché questo bambino è un infanzo. Non può parlare. Sono solamente i vagiti di un bambino, che provocano la tenerezza. Ho sentito la tua voce e mi sono nascosto. Questo non c'è più da fare. Perché Dio si presenta a noi come un bambino. Ma allo stesso momento, questo Dio, che si nasconde sotto un bambino, e quindi che magari si lascia insultare, si lascia bestemmiare, perché Dio ha previsto tutte le ingiure che avrebbe subito, sia dagli atei, che dai cattolici stessi, che dagli ecclesiastici, anche i più alti stessi, che lo disonorano, che lo insultano, adorando delle false divinità. Ebbene, questo Dio così buono, così misericordioso, contemplando nella sua umanità, dobbiamo ricordarci anche della sua divinità. Ci sono queste due cose nel mistero di Natale. Per meglio capire l'umiltà del nostro Dio, dobbiamo ricordarci la sua divinità. E come ricordarsi questo? Contemplando in questa notte la liturgia celeste. La liturgia celeste che ci propone San Giovanni, nel capitolo quinto dell'Apocalisse. «Vidi rito in mezzo al trono, circondato dai quattro esseri viventi, e dai vegliardi un agnello, come immolato. E lì aveva sette corona e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio, mandati su tutta la terra». Quindi in questo paradiso, dove c'è il trono, i quattro esseri viventi, i ventiquattri veliardi, i miliardi di angeli, San Giovanni vede questo agnello, rito in piedi, ma immolato. Quindi questo bambino che nasce questa notte, sarà immolato per noi, ma risusciterà, sarà vittorioso, e quindi è in piedi. Questo bambino, questo agnello, ha sette corna e sette occhi, che significa l'onnipotenza di Dio, e la sua sapienza infinita. E è lui stesso che manda i sette spiriti, come il Padre manda lo Spirito Santo, Gesù Cristo manda anche lui lo Spirito Santo, è uguale al Padre. E lui solo può aprire il libro, il libro che deve essere rivelato a San Giovanni. Allora si prosterano davanti a lui i quattro animali, e i ventiquattri veliardi, avendo ciascuno un'arpa e coppa d'oro colmi di profumi, che sono le preghiere dei santi. E dicono, tu sei degno di prendere il libro e di aprire i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio, con il tuo sangue, uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazioni. Quindi tu sei degno perché ti sei immolato, per il tuo Dio, perché per primo Gesù Cristo viene a rendere onore a Dio, e l'onore che è stato rubato a Dio, da Adamo, e da tutti i nostri peccati, che Gesù Cristo viene a rendere al suo Padre. E poi si è liberato. I due popoli diventano uno solo a Natale. di ogni tribù, ogni lingua, ogni popolo, ogni nazione. Di fatto, un cattolico non può essere rassista, perché non distingue le razze, vede davanti a Dio tutti gli uomini che sono riscattati dal sangue di Gesù, se accettano questo riscatto. E gli angeli, poi, che sono miriadi di miriadi, e migliaia di migliaia, e dicono, l'agnello che fu immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore e gloria e benedizione. E una lode ripetuta sette volte. Sette è il segno dell'infinito, come vediamo sempre nel libro dell'Apocalisse. disse, tutte le creature del cielo e della terra, sotto la terra e nel mare e tutte le cose ivi contenute rendono onore a Dio. E i quattro esseri viventi dicevano Amen. E i ventiquattro miliardi si prosternarono e adorarono quello che vive nei secoli dei secoli. Allora, cari fedeli, contempliamo questa liturgia divina. Allora che Gesù entra in questo mondo per riscattarci, per mostrarci qual è la via che porta al paradiso, ebbene accettiamo volentieri anche noi di prendere la nostra croce per seguirlo. Ma sappiamo dove porta questa croce? Porta in questa liturgia ceste dove adorano quello che regna nei secoli dei secoli. Noi siamo chiamati a regnare con lui nei secoli dei secoli per tutta l'eternità. Portando la nostra croce potremo entrare in questa gloria. Allora chiediamo a questo bambino che adoriamo in questa notte, che adoreremo fra poco immolato di nuovo su quest'altare mediante le parole del sacerdote. lo adoreremo immolato marito cioè vincitore e se non è certo che anche noi potremmo vincere con lui per regnare con lui nel nome del Padre e del Figlio e del Spirito Santo così sia sia odato Gesù Cristo. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.